Il team di lavoro che sono chiamato a rappresentare oggi si compone di 50 testimoni del potenziale umano. A loro, alle loro famiglie, a tutti coloro che credono nelle nostre competenze, rivolgo un particolare ringraziamento. Il Made in Italy è un'opportunità di riscatto economico e sociale, è l'arma pacifica più potente che abbiamo nel nostro Paese. La propaganda del Made in Italy e gli esiti che ne derivano salveranno le imprese italiane in difficoltà e incrementeranno l'occupazione come nel nostro caso. Il cammino verso l'autonomia produttiva nel nostro Paese richiede forza di volontà piuttosto che sacrifici. Ogni euro speso per l'acquisto di manufatti Made in Italy contribuisce a rafforzare le risorse utili, a migliorare la qualità della nostra vita e finanziare altre sfide sociali. Il progetto Made in Italy ha bisogno di più testimoni, ha bisogno di voi. A tutti, indistintamente, auguro tutto il bene possibile. Buon Natale e felice anno nuovo.